Dalle 9 e mezza circa della mattina di giorno 8 luglio, un elicottero ed un Canadair sono stati impegnati a spegnere un incendio di vampato sul territorio di Nicosia, in contrada a Olivieri, e che anche a causa del vento che soffiava in quelle ore, si stava espandendo velocemente verso contrada a Tre Casette in direzione quartiere Magnana. Le operazioni dell'elicottero e del Canadair sono state avvistate sin dalla zona del campo sportivo Stefano Lamotta, dove gli abitanti hanno avvertito la puzza di bruciato sin dalla prima mattina. L'elicottero ha potuto raccogliere acqua per i soccorsi da un vicino laghetto presente sulla proprietà di Felice Rizzone che gentilmente ci ha girato i video. E' la seconda volta, in soli 15 giorni, che viene attinta acqua dallo stesso laghetto per spegnere un incendio. La scorsa volta si trattava di un incendio sul territorio di Sperlinga. Grazie all'accelere intervento e dal costante alternarsi dell'operato del Canadair e dell'elicottero, l'incendio è stato spento durante la stessa mattina. Negli ultimi giorni, la provincia di Enna era stata già oggetto di incendi, che hanno coinvolto terreni agricoli e fattorie, in particolare sul territorio di Piazza Armerina, e che hanno già molto impegnato gli uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, il Corpo Forestale e le squadre SAT. La prefettura di Enna è in contatto con tutto il territorio per monitorare la situazione, che quest'anno appare piuttosto grave, anche a causa delle alte temperature e della scarsità di acqua negli invasi.